Il paragone è che dieci anni fa i tecnici migliori dell'aeronautica mondiale hanno detto che l'aereo di Picard non avrebbe mai potuto, il pulsar fotovoltaico, fare il giro del mondo. E l'ha fatto. Dieci anni fa i tecnici migliori della politica italiana hanno ribadito che noi non avremmo mai fatto nulla nella politica italiana. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. Gli aerei impossibili del Movimento 5 Stelle è decollato e adesso cambieremo la quota e andremo sempre più in alto.